buongiorno amici vorrei parlare con un attimino con voi di coppa italia parliamo di coppa italia allora dopo rivo che la juve intanto parliamo di coppa italia quindi il milan ha fatto la sua partita ha preso due rincalzi buoni nuovi quindi molto validi perché a me piace e piace tantissimo quindi è un giocatore valido farà del bene quindi il milan secondo me si è rinforzato bene attacca anche lui sulle fasce i centrali si incrocia bene diciamo che ha trovato l'amalgama giusta e un gioco ce l'ha quindi ha fatto la sua partita eliminato il napoli che anche il napoli il suo gioco ce l'ha però il milan ha eliminato il napoli passiamo passiamo alla roma vera roma diciamo che siamo abituati che la roma ormai più che giocare a calcio la si gioca a tennis infatti 7 a 1 col buyer 7 a 1 con fiorentina non è i primi 7 a 1 che si sono visti quindi ecco diciamo che non mi meraviglia il crollo della roma passiamo alla juventus passiamo a juventus va tanto ormai vendete tutte passiamo a juventus allora la juventus c'ha due problemi due problemi grossi uno che non c'è uno schema proprio se voi volete volete dirmi nei commenti che schema io vi ascolto volentieri a mio avviso la juve non c'ha uno schema giocasi singoli ma schemi proprio con questo allenatore non se ne vede adesso non so se siamo al quarto quinto anno di alleghi perché io ripeto tanti mi dicono ma però la critichi sempre qui signori e dal me da quando è arrivato allegri che e sono quattro anni cinque anni che non abbiamo uno schema che non abbiamo uno schema che cazzo storia guardare cosa ma che cazzo storia guardare cosa ma stiamo scherzando davvero ovvia devo star lì a mangiarmi il fegato per un coglione che meno male che meno male sembra che l'anno prossimo se ne vada ma io mi domando ma anche la dirigenza la stessa dirigenza ma non ci li ha gli occhi per vedere che cazzo fatto questo coglione ma non li ha gli occhi cioè perché ha vinto ha vinto 3 4 scudetti diventato è un fenomeno ma stiamo scherzando abbiamo perso due finali con un imbecille e quest'anno non so neanche se ci andiamo perché se se giochiamo così come abbiamo giocato con quella con l'atalanta che poi complimenti all'atalanta perché hanno fatto una grandissima partita e poi dopo vi spiego sempre in questo video perché l'atalanta ha piegato la juve l'atalanta ha fatto una bellissima partita noi non so se già dal dicembre che facciamo cagare più o meno più o meno e dal dicembre che facciamo cagare noi non c'è gioco con la lazio abbiamo fatto due tiri in porta due due tiri in porta se non c'era quel cazzo di rigore aveva fatto due tiri in porta ma stiamo scherzando davvero mentre la ieri con l'atalanta abbiamo fatto un tiro in più e abbiamo perso 3 a 0 ma stiamo ma non è questa la juve questa non è la juve questo è un bordello è un casino allora praticamente cosa è successo che gasperini che è una grandissima persona che io in ogni modo stimo perché ha vinto forse voi non lo sapete ma ha vinto una coppa italia con la viareggio con la squadra della primavera e ha giocato anche nella juventus quindi non è un cartino non è un l'ultima ruota del campo ieri gasparini ha letto la partita giustamente ha detto la juve non avendo un gioco corale non avendo un cazzo di gioco come tutti i cazzo di allenatori hanno anche quello della carrarese c'ha un cazzo di schema di gioco ha detto io gli blocco i singoli e la juve va in merda cosa ha fatto ha bloccato i singoli e la juve è andata in merda quindi gasperini è un allenatore questo è un allenatore io ho pensato poi che quando quel cretino di un allegri era stato espulso si riusciva a recuperare qualcosa ma purtroppo la frittata era già fatta perché eravamo già sotto di due quindi c'era poco da da fare quindi non prendetevola tanto con i giocatori che i giocatori non c'entrano un cazzo ronaldo quando era real madrid di partite ne ha fatte parecchie e neanche sbagliate qualcuna qualcuna qui è riconoscibile non sembra neanche ronaldo c'è questo ha rovinato anche ronaldo mi rendete conto ronaldo era un giocatore da dirgli vai in campo e fa quel cazzo che tu vuoi questo era ronaldo non ronaldo e deve stare lì a a qualche cazzo dice allegri che non c'è uno schema non hanno schema dove cazzo andiamo senza schemi aprite questi cazzo di occhi la buona volta dove cazzo andiamo senza schemi è incredibile lo sanno anche i fanti al asilo queste cose qua i pischelli sa tutti l'unico coglione che non lo sa è andrea agnelli che lui non ha ancora capito che cazzo stravede in questo coglione non ha ancora capito cosa cazzo stravede in questo coglione quindi non è che io non mi sbatto il cazzo della juve io io sono gobbo fiero di esserlo ma questo momento soltanto per i colori e per la maglia e non quella maglia di merda che c'è ora ma la maglia della juventus come dovrebbe essere col suo logo di torino e non quella cagata che sembra uno che caga sul cesso diciamo diciamo le chiare le cose non nascondiamoci sempre ovvia comunque questo video sarà potete commentare tranquillamente io accetto critiche non insulti per carità anche se magari per qualcuno magari solo meno merito però trattenetevi fate il commentino commentate ditte la vostra lo troverete anche su ip tv di coso di instagram e basta ecco quello che dovevo dire io ve l'ho detto chiare tondo il discorso non prendeteva con i giocatori ma prendete con quel cazzo di merda di allenatore che non capisce un cazzo e fino che ci sarà la guida quel deficiente non pretendete grandi risultati da juventus perché andando avanti senza gioco ti può andare bene una volta due tre quattro la quinta ti steccano ti steccano buona giornata a tutti e scusate se ho alzato un po la voce ma poi io mi faccio prendere da queste cose quindi chi mi conosce lo sa buona giornata a tutti buona giornata a tutti